ciao caro spirito eterno un bel titolo per oggi io tu chi vuole però cominciamo io te possiamo creare un buon karma ho scritto un libro crea un buon karma ci sono mille mille brevi insegnamenti riflessioni brevi poi aprire scegliere un numero da uno a mille lo scritto tutti io 478 stiamo tutti camminando più o meno velocemente verso la morte verso la fine di questo corpo fisico possiamo trasformare questa passeggiata terrena in un'esperienza serena e consapevole dando spazio quotidiano all'amore sembra triste dire stiamo tutti camminando verso la morte questa crea un buon karma l'acqua io voglio stare bene io merito di stare bene bevi io voglio stare bene io metto di stare bene memorizzato dall'acqua va porta l'informazione l'acqua memoria allora questo libro questo libro questo libro si basa su questa affermazione questa è un'affermazione breve che però tu se vuoi la puoi mandare via telefonino facebook perché oggi va molto la la frase breve allora viva la vita viva la vita tu puoi mandare questo e vedi che succede intanto ti crea un buon karma perché come diceva stiamo tutti andando verso la fine cioè stiamo facendo io la chiamo viaggio passeggiata pellegrinaggio cammina ma stiamo andando tutti verso la fine cioè stiamo viaggiando c'è un arrivo e una partenza molti chiamano invece la nascita partenza no è un arrivo perché noi stiamo arrivando dal disincarnato lo spirito eterno disincarnato entriamo in un agglomerato di cellule che chiamiamo corpo fisico corpo materiale nel caso nostro corpo umano corpo umano quindi viva la vita vuol dire non solo animali belli amo non vanno mangiati vanno rispettati quindi viva la vita crea un buon karma crea un buon karma possiamo bisogna avere una base ottimista e poi rendere pensieri emozioni che sono invisibili ma producono effetti reali che sono migliaia rendere pensieri emozioni parole cibo e azioni positive quindi parti ogni giorno io voglio essere ottimista e voglio trasformare pensieri emozioni e se arrivano pensieri negativi li trasformi li lascia andare in un altro video ho spiegato ti viene in mente una persona antipatica mettiamo che si chiama giorgio cerquetti perché non posso usare il cognome di un di io lascia andare giorgio cerquetti ma se ti viene in mente una persona simpatica io dico giorgio e lascia andare anche se simpatica lascia andare digerisci assorbi assimila ama ma impara a lasciare andare se sei in viaggio passeggiata pellegrinaggio non ti fermi oppure se ti fermi poi riparti molti vorrebbero fermarsi alla giovinezza no la giovinezza non è eterna la giovinezza è un riflesso dell'eternità noi entriamo godiamo la giovinezza e pensiamo che la giovinezza è tutto nel mondo spirituale nel mondo non materiale abbiamo dei corpi che non invecchiano quindi non sono né giovani né vecchi sono vivi siamo vivi erano vivi continuiamo a essere vivi allora possiamo creare un buon karma se vuoi il libro non lo trovi in libreria questo è uno di quei libri che io ho fatto stampare il cui ricavato deve andare tutto in beneficenza per creare un buon karma a te che leggi il libro e a chi riceverà la donazione che tu mandi perché i libri che io sto vendendo no a una vera vendita chiedo una donazione quindi mi scrivi mi hanno chiesto ma quanti libri fatto tu mi scrivi io ti mando le leggo di tutti i libri che ho fatto e ti consiglio di leggerli tutti allora qui in questo canale ho deciso che appaio solo io però appaio anche in altri canali allora oggi ti invito a guardare un altro canale dove mi ha invitato mi hanno invitato si chiama il canale carpe oro racconta e il video si chiama spiriti liberi quindi se ti piace lascia un messaggio e ogni volta che adesso andrò in qualche altro canale te lo faccio sapere perché qui voglio pubblicare solo i miei però se vado ospite ti faccio sapere così tu puoi guardare anche altri video ti ringrazio per l'attenzione per l'amore per l'affetto e ricordo si ottimista crea un buon karma di nuovo Grazie.